Siamo qui con Mister Dossena al termine di Provercelli-Legnago 1-3. Mister, una partita difficile nel momento migliore del 2-1 di maggio, è arrivato poi l'episodio del 3-1. Sì, in questo periodo qua subiamo troppi gol perché alla fine quando finisce ogni partita sotto di 2-3 gol raramente potrei farne tre o quattro all'avversario per poter portare a casa un punto o tre punti. Siamo fragili e per la difesa intendo con la fase difensiva. Il primo gol, un gol da 25 metri sotto l'incrocio, tutta la difesa era sottolinea la palla quindi magari dovevamo chiudere il tiratore più cattivi. il secondo gol, una palla libera dal portiero, credo dal difensore vicino al portiere. Un colpo di testa spizzata, vanno in porta tu per tu con il nostro portiere. Concediamo troppo tanto e facendo così magari anche l'avversario è più invogliato ad attaccarci perché guardando i numeri continuiamo a prendere troppi gol. Sembra assurdo ma qualcosina sotto l'aspetto del gioco l'abbiamo fatto perché siamo arrivati al tiro, siamo arrivati alle conclusioni, le cross pericolosi dal fondo, però dobbiamo essere più cattivi sotto porta a noi e più cattivi nella nostra area per invertire questo trend. Da queste note positive di cui ho appena parlato si riparte per preparare poi l'importante derby di sabato? Sì, adesso viene una partita che sicuramente forse ecco loro all'andata erano nella nostra stessa situazione di ora però le sfide sono belle, dobbiamo metterci lì concentrati, sapere che è una partita di calcio, sapere che possiamo dimostrare di tornare ad essere noi e ecco magari sapendo che è una partita così importante magari ti alza un po' la concentrazione e la voglia, però c'è sempre stata, forse non perché la voglia di questi ragazzi sono sempre stati da laudare, però quel contrasto che magari oggi hai perso ci metti qualcosina in più che ti permette di vincere o di non prendere gol. Grazie mister. Grazie. Grazie.